Tante ore alla terza serie della 4 per 4 per cento, in corsia 2 abbiamo Atletica Chiari, in corsia 3 Bergamo Stars, in corsia 4 per la mano sportiva Atletica Uveidi, in corsia 5 Motus Atletica Castagnata, in corsia 6 Atletica Saletti. Queste sono le atlete che gareggeranno e stanno gareggiando in questa terza serie, serie che non ha crediti, quindi sarà una serie tutta da scoprire come poi succederà per la quarta, la quinta serie. E vediamo che in testa, in questa terza serie, si è portata l'Atletica che sta in corsia 6, quindi l'Atletica Saletti che cambia in questo momento, poi cambia l'Atletica Arvidi, seguita da Bergamo Stars, poi da Motus Atletica Castagnata e l'Atletica Chiari. e l'Atletica Saletti attualmente in testa, seguita da Bergamo Stars, vediamo che ora rientrano alla corda le atlete. Atletica Saletti passa per prima ai 200 metri, seguita da Bergamo Stars. ed ecco l'attacco della fermazione della Bergamo Stars, che quando mancano almeno di 5 metri va a prendersi la prima posizione, a cambiare per prima, seguita poi dall'Atletica Saletti. e poi cambia il cambio a Bergamo Stars, cambia anche l'Atletica Saletti, cambia anche Motus Atletica che ha la terza posizione. Atletica Chiari e poi crema una sportiva atletica Arvidi. Siamo alla terza frazione. Bergamo Stars ha preso una discreta margine di vantaggio, sono circa una trentina di metri sulla firmazione dell'Atletica Saletti. vediamo che va a incrementare ancora, siamo oltre 40 metri di stacco. Entra ora in rettivino finale, mancano assolutamente pochissimi metri per l'Atletica della Bergamo Stars che cambierà in prima posizione, seguita dall'Atletica Saletti. Poi in terza posizione abbiamo l'Atletica Chiari che viene affiancata in questo momento dalla Cremona Sportino Atletica Arvidi che dall'ultima posizione è passata alla terza posizione, Motus Atletica in quinta posizione. Cambia Cremona Sportino Atletica Arvidi, cambia Atletica e cambia Motus Atletica in questo momento. Con un'altra partecipazione di Ammona per la partecipazione delle azioni diininge del Lai Sfrutturi, un'altra partecipazione delle azioni di ammestri delle azioni che richiede lezioni di ammestri di ammestri delle azioni che partecipazioni di ammestri dell'ar Condito della cultura expectations e delle azioni che formano potenziere la loro ammestri. Cambia Il Dice in quinto a partire per la partecipazione delle azioni che nel mese di ammestri degli ammestri di Chiavi di Ammestri della Barra, Bene, Bergamo Stanza chiude la prima posizione, va in tempo di 4-0-8-0-4 Arriva era Metis Atletica, recuperato su Tremano Sportivo Atletica Armeyar Atletica Saletti, scusate, poi abbiamo Atletica Chiari, Atletica Chiari Arriva era la seconda posizione, Atletica Saletti poi la terza Poi abbiamo Cremona Sportivo Atletica Armeyar e Natius Atletica che chiude in questo momento Bene